Ragazzi, premetto subito prima di iniziare il video se vedete un po' di casino qua dietro perché ci stiamo risistemando e mia moglie ha messo tutte le cose per la pittura in giro per il soppalco anche perché dovrebbe ricominciare a breve a fare video di speedpainting quindi se vedete un po' di casino, perdonateci Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare due scenari che poi ve li faccio vedere a modino, unboxing e tutto quanto mi hanno colpito veramente da morire perché, sono sincero e onesto come sempre li ho conosciuti meno di un mese fa e sto parlando della serie Easy Dungeon prodotti dalla Games 06 o Games 06, comunque, vabbè, comunque, dalla Games 06 che è l'officina 06 italiana di Roma che me ne hanno mandate due copie dimostrative e io tra l'altro li ringrazio veramente di cuore per avermene offerta appunto queste due copie che vedete qui davanti che è la stanza delle torture e la caverna dei nani, o comunque le miniere dei nani, forse è più indicato e li ringrazio veramente di cuore, è un piacere e un onore collaborare con voi spero ovviamente possa adorare, questo me lo direte voi grazie ragazzi, veramente di cuore tra l'altro loro dell'officina 06 hanno la sede a Roma e questi sono prodotti italiani venduti nel mercato internazionale però comunque sono prodotti fatti in Italia e bisogna essere fieri perché, insomma, in tante cose in Italia non si riesce ma in tante altre invece si fanno anche dei capolavori ed è secondo me il caso di questa Easy Dungeon che sono tile di gioco vedremo all'interno c'è anche un piccolo tabellone se ci volete fare una mappa ma per la maggior parte sono mura, porte, passaggi e la cosa bella è che sono fatti ovviamente già predipinti e tutto quanto preassemblati di plastica con uno stand da metterci sotto quindi un semplice muro fatti davvero bene come grafica poi plastica e resistente fatti veramente spettacolari ma la cosa più bellina è che sono tile di gioco e muri magnetici quindi hanno una calamitina che va attaccata sotto lo stendino di plastica e praticamente permette di attaccare tutti quanti i pezzi anche finché non vadano a giro ovviamente se no basterebbe da ci un colpo e volerebbero da tutte le parti e premetto subito una cosa ma sarà materiale di un prossimo video quello che vedrete qua giù dentro sono proprio due piccoli set quindi ad esempio li potete giocare in un gioco li potete usare in un gioco da tavolo in un board game se volete magari non lo so prendere i pezzi e metterli in hero quest per delimitare le stanze in dungeon saga per delimitare i corridoi insomma li potete prendere e buttarli in qualsiasi dungeon crawler dalla A alla Z oppure li potete usare con lo scenario che c'è dentro quindi usando anche i due tile della mappa che uniti formano una mappa più o meno grande come la scatola e li potete giocare anche per dungeon and dragons perché magari a volte proprio in un gioco di ruolo si ha bisogno di vedere di creare una mappa di un dungeon in 3D forse ancora meglio per vedere sapere cosa vedono i nostri avventurieri o per magari muovere semplicemente anche le miniature per vedere insomma l'iniziativa le distanze il tiro la gittata la magia e quant'altro vanno bene sia come rappresentazione del gioco di ruolo che appunto per usarli in altri giochi da tavola e vi dicevo loro dell'officina 06 hanno fatto se voi andate sul loro sito tanto per acquistare se acquisti che anche per quello che vi sto per dire se andate sul loro sito che trovate primo link in descrizione hanno anche un loro dungeon crawler che si rifà al regolamento di Dungeons & Dragons se non erro quinta edizione print and play quindi non è a pagamento è gratis per tutti andate sul sito e lo scaricate ed è un print and play che ha tile dei personaggi schede dei personaggi schede dei mostri ovviamente stand dei mostri vari tile di gioco pezzi di muro tutto quanto stampabile e giocabile comprensivo ovviamente del regolamento sia in lingua italiana ovviamente fatto da italiani che inglese e tra l'altro quel gioco lì che è print and play gratuito lo potete tranquillamente giocare con i loro scenari quindi nel caso vogliate giocare i loro scenari nel loro stesso gioco andate a vedere tanto primo link in descrizione e ora vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro la stanza delle torture e le miniere dei nani vi faccio un unboxing di tutte e due e poi vi facciamo vedere un pochino come si montano unboxing questa è la scatola delle miniere dei nani tra l'altro bellina la colorazione il disegno e tutto quanto mi garba da morire poi contenute piccolina non è nemmeno tanto tanto spessa e guardate bello il nano che ci ha disegnato suo proprio cattivo e incazzato nero e poi girando la scatola da questa altra parte ci fa vedere tutti i pezzi che ci sono vedete qui ovviamente sono in pollici e ci sono sette pezzi da un pollice sei pezzi da due pollici e così via ci fa vedere tutto quello che c'è e come si può andare a comporre appunto lo scenario però essendo uno scenario magnetico lo potete fare come vi pare a voi ed è questa la cosa bella dell'easy dungeon vi faccio vedere cosa c'è dentro tutte quante le basettine di plastica dove ovviamente mettere i pezzi di muro per tenerle in piedi le calamitine che vi dicevo che queste calamitine vanno attaccate sotto la base una guida di istruzioni che ci fa vedere ovviamente come vanno montate vedete vabbè questo qui è il piccolo tabellino di gioco che se lo volete usare lo potete anche usare come base sottostante però se dovete magari usare questi tile che vi faremo vedere questi pezzi di muro per giocare a diro questo dungeon saga altri giochi del genere insomma la base sotto non vi servirà e vi fa vedere come si montano e i due pezzi del tabellone che c'è dentro come vi ho detto precedentemente che poi si aprono e vanno a formare un tabellone di gioco e questo secondo me è la cosa migliore o per giocarci con il loro stesso gioco che tra l'altro preparatevi perché ci farò anche un video me lo stamperò e tutto quanto e una volta stampato vi ci farò proprio vedere un video e poi tutti quanti i pezzi del dungeon ancora da defustellare e vi facciamo vedere un pochino come viene più o meno un dungeon montato e vi facciamo vedere 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 al tabellone non rischia di spostare niente almeno che ve l'ho detto la botta non sia fortissima e qui non abbiamo molta immaginazione ma si è fatto un dungeon creato così insomma qui magari questo pezzo si potrebbe levare per creare un passaggio una porta una cosa del genere ma come vedete è componibile e lo potete comporre per come vi pare a voi quindi un pezzo lo staccate da una parte lo mettete davanti e ricordatevi che sono tutti quanti magnetici e ci potete giocare con tutte le miniature che vi pare a voi perché prendendovi delle miniature fantasy classico stile quelle di dimensioni dai 28 ai 35 mm ve ne faccio vedere un paio prendendo delle vecchie miniature di Warhammer ci potete andare a mettere un goblin e vedete che anche qui come dimensioni ci siamo ci potete mettere un orco nero madonna mia quanto sono belli e le dovrò riutilizzare assolutamente per altre avventure e poi ci potete andare a mettere se no anche un piccolo goblino di quelli piccoli e brutti che c'erano dentro la scatola di Battle Masters quindi come vedete sono scenari tranquillamente per qualsiasi gioco e qualsiasi ambientazione cioè guardate ad esempio usandolo usando gli Easy Dungeon con Dungeon Saga immaginatevi di preparare una partita con il compendio dell'avventuriero e guardate cosa può venire fuori ora una cosa fatta velocemente ragazzi abbiamo messo anche le mura un po' storte lo vedete che combaciano male e quant'altro però abbiamo arricchito il tavolo di gioco questi tiles del dungeon con i pezzi di Dungeon Saga quindi abbiamo messo i portoni d'entrata abbiamo messo addirittura le grate abbiamo messo un pozzo abbiamo messo le tavoline delle librerie abbiamo messo lo scheletro del re dei nani con il suo trono e uno scrigno qui accanto un po' di mostri in giro un pozzo vedete la Giulia Roy cioè immaginatevi di fare una partita del genere dove ad esempio dite la vostra partita la vostra avventura con i vostri avventurieri ho già girato un pezzo picchiandoci con la mappa picchiandoci con la maglia addirittura potete dire che ne so la vostra avventura dei vostri eroi comincerà da qua giù e dovrete esplorare queste stanze ovviamente la gente sa già come è fatto il dungeon quindi sarebbe difficile comunque farne soltanto una parte e poi quando viene scoperta montare tutto il resto sarebbe troppo macchinoso però immaginatevi bellino così che fino a che le porte delle stanze non vengano aperte come nel bostile di Heroquest e come nel bostile anche in Dungeon Saga non si sa cosa c'è dentro alle stanze quindi fate conto che quando gli eroi magari arriveranno qui apriranno questa porta passeranno oltre e poi quando apriranno magari anche quest'altra porta qua giù in fondo potrebbero trovare che ne so un non morto un goal o qualcosa del genere e poi comunque anche qui elementi scenografici guardate già lo spessore che dà un gioco del genere perché quello che piace o almeno che piace soprattutto ai giocatori di Dungeon Crawler è la tridimensionalità degli ambienti di gioco perché Heroquest perché andava oltre perché Heroquest vinceva e Dungeon Saga anche quella a mani basse perché cavo questa non si va a niente cioè ci potevano mettere un token di carta come ha fatto Dungeon & Dragons però perché Heroquest ce l'ha messo perché ti cicali di più ma sta libreria cosa serve? a nulla serve magari a parare la linea di visuale dell'elfo nel caso fosse messa in un punto dove dietro c'è uno scheletro e quindi l'elfo non li può tirare ma a parte questo ci potevi mettere un token di carta una cosa del genere e invece no l'hanno fatto probabilmente oscenico perché ti cicali 100.000 volte di più in un'ambientazione del genere ora fra giocare una mappa piatta dove muoviamo eroi e nemici o giocare in una mappa bella arricchita così di contenuti che magari ci fa anche qualche foto col telefonino e tutto quanto cioè ma quanto immensamente più bello e poi sul loro tabellone di gioco che è questo qui sotto ricordatevi che gli attacchi sono magnetici quindi come mettete una cosa potete tranquillamente ora senza fare ovviamente come si dice a Livorna e a Pisa e Giozzi potete tranquillamente spostare tutto quanto e vedete la roba segue non si spacca assolutamente nulla se si stacca e né si stacca perché ovviamente sono tutti quanti attaccati magneticamente ed è una figa ah poi ognuno di questi qui è double fast quindi da una parte e dall'altra cambia anche il disegno in tanti casi ed è veramente bello perché vi permette di creare la vostra avventura e viverla proprio in tutt'altra maniera cosa che hanno fatto anche quelli della Battle System con i loro scenari tipo Corespace e cose del genere e secondo me hanno vinto a mani basse perché creare un board game o un war game quindi un gioco da tavolo un gioco prettamente di schermaglie di guerra con elementi scenici 3D è la vittoria e secondo me se volete veramente giocare divertendovi non ve li dovete far scappare vi faccio vedere ora invece com'è quell'altro della stanza delle torture e questo a differenza delle sale dei nani che è più grigio e cupo come Tony questo è sicuramente molto più sullo stile gotico che qui manualetto delle istruzioni stesse cose che vi ho fatto vedere come prima calamitine da attaccare sotto le basi quindi levate l'adesivo e ce le incolate sotto tabellone di gioco sempre questo in due pezzi componibile come quel lato dei nani e poi i vari pezzi di mure come vedete in questo caso ci sono anche grate fuscine fuoco e cose del genere andiamo a comporre qualcosa anche con questo un'ambientazione del genere delle antiche prigioni o comunque delle specie di celle delle segrete cose varie e in questo caso potete fare un paesaggio molto più gotico come avete visto un'ambientazione un dungeon molto più gotico rispetto alle vecchie sale abbandonate dei nani che ricordano un po' le minerie di moria e che tra l'altro ci stanno da dio con dungeon saga perché il gioco di base si chiama la missione del re dei nani quindi proprio ci sta perfetto come dungeon e potete anche unirli potete metterli anche sempre che magari potete fare una bella mappa di gioco tutta da scoprire dove una parte sono le minerie dei nani e un'altra parte queste qui potrebbero essere le sale del re perché potrebbero essere anche qualcosa del genere oppure antiche celle dove ci mettevano le armi il vino o perché no anche le prigioni di nemici quindi sarebbe bellino anche crearci un'avventura laddove nelle celle ci sono umani che ne sono catturati dai nani e messi lì a morire oppure orchetti pelle verde per la maggior parte o si potrebbero essere risvegliati troll e creature del genere quindi come ambientazione è veramente spettacolare ci starebbe anche bene da morire in sword and sorcery perché in sword and sorcery anche stessa cosa in come vi ho detto in dungeon saga forse l'unica difficoltà sarebbe in dungeon saga se non usate il compendio dell'avventuriero quindi senza fare una mappa già pronta da esplorare dentro le stanze non ci mettete niente però lo sapete com'è dungeon saga sono strisce lunghe pezzi lunghi che poi vanno collegato l'uno all'altro per creare varie mappe e vi ricordate com'è per vedere come viene fuori il disegno del dungeon scelto da voi o della pagina appunto dell'avventura che state seguendo quindi un po' di home rules ci vogliono in questo caso qui però come avete visto ci si basa benissimo anche perché è diviso già in quadretti quindi sono i movimenti che potete fare tranquillamente ragazzi nella maggior parte dei giochi perché potreste anche direttamente spostarci un hero è la stessa identica cosa che tanto movimenti ortogonali oppure movimenti in diagonale perché magari è anche più bellino vedere un descent o vedere uno sword in sorcery laddove è creato un dungeon in 3D e voi io vi sfido chiunque abbia visto questo video ora ripeto l'abbiamo posizionato un pochino male andrebbero messo sicuramente un po' meglio anche perché qualche botta il tavolino lungo le riprese l'ha avuta però ditemi voi se non è molto più bello ed immersivo una cosa del genere spettacolare cioè aprire porte visitare le stanze a me veramente mi gasa da morire e infatti vi dico che quando giocheremo a dungeon saga perché voglio fare un'avventura a mia moglie dove ci metto anche degli orchetti di goblin e cose del genere penso proprio che la prima avventura amor mio te la farò nelle catacombe dei nani nelle miniere dei nani e come vedete ci sta veramente bene e questo è il secondo scenario che ci hanno mandato quindi come vedete in conclusione sono veramente spettacolari e tutti quanti i loro dungeon sono di queste dimensioni queste qui diciamo che sono i set base che dovrebbero andare all'incirca sui 39-40 euro qualcosa del genere ovviamente a set e questa è la stanza delle torture poi abbiamo le miniere dei nani e ce ne sono altri due tanto comunque il primo link in descrizione trovate il loro sito dell'officina 6 e tutto quanto e ne hanno anche uno più grande che dovrebbe venire forse sull'ordine di 100 o qualcosa del genere 10 euro di più 10 euro di meno ma siamo lì però praticamente è il triplo cioè rispetto a quello che avete in una scatola del genere è tre volte più grande e quello davvero vi viene fuori fate conto i due insieme che vi ho fatto vedere più qualcosina in più quindi ci viene fuori una scena della madonna e vanno bene per tutti i tipi di dungeon crawler ovviamente in qualche punto lo dovete un po' adattare ve l'ho detto a qualche gioco ci calza meglio dungeon saga e diro queste le potete giocare tranquillamente qui dentro le potete tranquillamente spostare e farci delle avventure perché ci si muove a caselline in giochi dove non ci si muove con le caselle tipo sword and sorcery magari è leggermente più difficile però comunque a voi non me ne deve interessare niente prendete direttamente il pezzo del dungeon magnetico e delimitate le stanze o i corridoi di qualsiasi altro gioco quindi per me è veramente con un pochino di home rules soprattutto in questo caso per me è uno spettacolo da un senso di 3d alla mappa che ora perché se no verrebbe il video troppo lungo e ho paura anche di fare casino però io vi faccio immaginare come sarebbe se ora togliessi da quel tavolo di gioco tutte le mura ok e vi facessi un dungeon componibile in 2d senza magari il tavolino senza magari il muro senza la libreria senza si è vero che anche le componenti esterne tipo di dungeon saga aiutano molto però vi farei vedere come sarebbe tutto senza mobili senza niente senza mura senza pareti senza niente di spessore in 3d e soltanto le miniature che si muovono per le caselle e vanno a cacciare mostri veramente ne guadagna da morire proprio l'esperienza generale di gioco se li devo dare un voto assolutamente li do un 8 e mezzo su 10 meritatissimo mi garbano da paura soprattutto se usate anche il loro tabellino di gioco che essendo magnetico ci si attacca bene sopra e praticamente anche muovendolo la roba non si scolle quindi è una figata assurda primo link in descrizione trovate il loro sito e poi franno molto vi farò vedere direttamente stampato il loro gioco gioco che hanno fatto apposta per giocare con il loro dungeon e il loro sistema quindi quello proprio calza pennello al 100% ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate io ringrazio ovviamente la games 06 o comunque l'officina 06 grazie di cuore ragazzi spero che questa cosa possa continuare veramente onoratissimo tra l'altro grazie che mi avete dato questa possibilità di farvi questo cosa ne penso e ragazzi è veramente un gioiellino da uno spessore ai vostri giochi da tavolo ma anche giochi di ruolo disumana io così cioè sono anzi mentre facevo sto video mi è già venuta un'idea in mente per creare un'avventura a base di orchi goblin orchi neri e cose del genere quindi fatemi sapere cosa ne pensate e ve l'ho detto primo link in descrizione per acquistare tutto e successivamente i nostri social ciao ragazzi alla prossima